È stata proprio una tempesta di grandine, acqua, incredibile, ha distrutto tutto. Ragazzi, è un bel casino. È stata una notte complicata, grandine, fulmini, nubi fragili in provincia di Arezzo. Da ieri ad oggi sono stati oltre 100 gli interventi dei vigi del fuoco. Per fortuna in questo territorio nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. I nuovi fenomeni meteo che hanno preso il via intorno alle 23 hanno interessato tutto l'Arettino e causato danni soprattutto in Valtiberina. Qui siamo a Sansepolcro e Anghiari, i campi di tabacco, sono praticamente distrutti. Che danno avete avuto in questa zona? In questa zona abbiamo avuto un danno del 100%. Ha distrutto tutte le coltivazioni, non abbiamo più niente da raccogliere. Io ho 20 ettari e me li ha distrutti tutti i 20. Non sono recuperabili perché questo è un prodotto che si fa alla fascia per fare il sigaro toscano. è tutto distrutto e oltre il danno nostro anche gli operai che non hanno più lavoro. Purtroppo ho 11-12 persone. L'assicurazione ce l'abbiamo però paga pochissimo perché le spese per coltivare sono tantissime e sicché in tasca non mettiamo quasi niente. Solamente qualcuno verso il Monterchi si è salvato, se no qui nella Valtiberina tutti distrutti. Un imprenditore ci racconta che ormai solo differenziando per zone le colture si salva l'annata. Noi abbiamo una politica conservativa, coltiviamo su un'area ampia e per questo siamo riusciti a salvare una parte dei campi. Iniziamo a coltivare da Pistrino, passiamo per San Giustino, per qui è il Trebbio e poi finiamo ad Anghiari. Però in alcune aree il danno è pressoché totale. La zona di Anghiari sono stata stamattina a Fangiro, praticamente i campi sono distrutti per la gran parte. Non solo ha bucato le foglie di tabacco, ha proprio distrutto le piante. Sì, sono campi con il 100% del danno tecnicamente, sono non più raccoglibili. L'anno scorso abbiamo avuto una bellissima annata, che era tanti anni che non c'era un'annata senza batterio, senza grande vicenda, quest'anno come contraltare abbiamo avuto queste bombe d'acqua con la grandine che ci ha distrutto gran parte la coltivazione. Siamo sempre più soggetti agli eventi climatici un po' estremi.